secondo me la bellezza come in tutti i campi credo sia soggettiva chiaramente a livello estetico c'è anche una componente storica che ci permette di giudicare che cosa per noi più bello o meno bello ci sono poi quelle cose credo che non lasciano scampo che sono talmente belle e talmente forti che si lasciano solo guardare non ci danno neanche il tempo di capire se sono bello o meno perché lo sono penso che l'immagine e la bellezza dell'immagine racchiuda anche tutta una serie di sensazioni che noi siamo capaci di percepire ma che in una bolla non riusciamo a distinguere ma ci sono tutte